Per noi è un regalo che ci è venuto senza che noi ne siamo degni, perché anche la sovrintendenza quando si è trovata dinanzi a questi ritrovamenti hanno detto che veramente valeva la pena approfondire e ricevere altre sovvenzioni. Praticamente noi siamo arrivati qui con la terza sovvenzione per questi lavori. Noi dedicheremo un anno intero, quindi 365 giorni, ad una causa che riteniamo particolarmente importante, quella di far conoscere questo luogo e questi scavi archeologici e quella di contribuire anche al loro completamento e alla possibilità di renderli fruibili al grande pubblico.